Buonasera signor Donald Trump Oh mio Dio Mi ricordo il mio primo attacco Il primo attacco non si dimentica mai Ed è stato contento del primo attacco Un orgasmo Spettacolare Stanco ma felice E l'attacco è meglio di Melania E ricordatevi negli Stati Uniti Per essere Presidente bisogna premere Per la prima volta il bottone rossa E io l'ho fatta E' un ometto ormai E cosa sta accarezzando? It's my shotgun Il mio fucile I'm 60 at home E ne ho 60 a casa Partygirl care about this This is a souvenir Eh ma sono molto affezionato a questo che è un souvenir Oh mio Dio Oh mio Dio è il mio vibratore E buone vibrazioni E ma ecco quando aveva attaccato però la Siria Tutto il mondo vuole saperlo Aveva agito esclusivamente di testa sua? I'm the president of USA In the morning I wake up And I make what I want E io sono il presidente dell'America E alla mattina mi sveglio E faccio quello che voglio I eat a toast And I make a toast Voglio mangiare un toast Mi mangio un toast I want to attack Syria And I attack Syria E voglio attaccare la Siria E attaccherò la Siria Ecco ma allora Perché quel giorno invece di attaccare la Siria Non si è mangiato un toast? Perché i toast non usano armi chimiche Sì però lei doveva avvertire i suoi alleati Che non sapevano nulla di questo attacco Tra i tanti alleati tra l'altro ci siamo anche noi italiani Che non sapevamo nulla Per esempio appunto a noi italiani Lei cosa aveva detto? Quel giorno mangiavo toast Now that I rested I'm going to second attack E adesso che sono riposato Vado a fare il secondo attacco E chi attaccherà questa volta? Lo vedrà Chi vivrà vedrà Shotgun Have you ever seen North Korea? Fucile Hai mai visto la Corea del Nord? Ma no!